Ciao! Faccio questo video per segnalarvi che sono finalmente riuscito a completare questo nuovo corso che ho messo sulla mia pagina Gumroad. Lo potete già trovare insieme a tutti gli altri corsi, quelli che sono troppo grossi per poter stare su questo canale YouTube che quindi sono presenti qui a pagamento. Si tratta di questo, Fondamenti di Blender per Illustratori, che è l'aggiornamento del mio corso precedente base, che era questo che avevo realizzato ancora con la versione 2.8 di Blender e che era pensato appunto per chi voleva muovere i primi passi dentro a Blender ma veniva diciamo dal mondo del 2D. Allora, da tanto tempo volevo aggiornare questo corso, quindi invece di fare un aggiornamento ne ho fatto uno completamente nuovo che appunto ho intitolato Fondamenti di Blender per Illustratori, perché approfondisco un po' di più anche tutta la parte a colori, diciamo, e quindi pensata per chi vuole realizzare illustrazioni. La prima parte, nei primi capitoli, nel giro delle prime due ore, vi porto verso la creazione di qualcosa di finito e di completo, come nel corso precedente. Quindi vuole essere un corso veloce. Dopo il primo paio d'ore di corso si arriverà a costruire questo semplice quartiere cittadino che è fatto solo di forme geometriche base e come si vede con le forme geometriche base si può fare molto. E quindi nel giro di poco tempo lo scopo è quello di rendere immediatamente produttivi nel risultato. E vi mostro anche come trasformarlo in un disegno 2D in stile linee, quindi stile fumetto o manga, diciamo. Questo è quello che si faceva anche nel corso precedente, nel giro di un paio d'ore. Quindi una scena semplice. Però ho voluto estendere in maniera tale che sia interessante anche per chi eventualmente aveva già seguito l'altro. E quindi oltre a tutti gli aggiornamenti di Blender, delle nuove versioni, quindi funzioni nuove che rendono ancora più facile fare quello che si faceva prima, ci sono altre due parti, entrambe da due ore, quindi la durata è più del triplo del corso precedente, nella quale insegno dei metodi di modellazione più avanzati che permettono di ottenere risultati più complessi. E anche tutta una parte per quanto riguarda i materiali e quindi anche le luci e le scene colorate, per poter quindi andare a creare oltre che delle scene in bianco e nero, come appunto questa, anche eventualmente delle scene a colori per chi volesse che poi possono diventare, con l'intervento artistico, delle illustrazioni in base al vostro stile. Trovate tutto descritto nella pagina di Gumroad, ci sono anche tutti i capitoli, appunto vi spiega cos'è la prima parte dove ci si ferma, cosa c'è anche nella seconda e nella terza parte. Completando la seconda parte si potranno costruire dei palazzi più interessanti, di quelli fatti con le forme base, vediamo anche come costruire un veicolo, qualcosa di simmetrico, e poi arriviamo appunto anche a capire come colorare i vari oggetti e quindi ottenere una scena che abbia dei colori, delle luci e in particolare appunto anche curare per bene l'aspetto dei materiali e quindi appunto se sono riflettenti, come dei vetri lucidi oppure opachi e quindi tutte queste cose arrivano per chi vuole, insomma, proseguire tutto il percorso. Ci sono anche due capitoli extra con degli argomenti più difficili ma che voglio introdurre comunque nel caso vi faccia venire la voglia di approfondirli da altre parti, che si è stata della scultura e quindi realizziamo insieme una roccia e una colonna, qualcosa di piuttosto semplice per cominciare ma che non si tratta solo da cubi, piramidi, sfere, ma che è qualcosa di più naturale e quindi c'è un capitolo anche su questo. Poi un altro capitolo extra è dedicato a dipingere sopra gli oggetti, quindi quando avete creato un oggetto il modo con il quale possiamo utilizzare i pennelli in Blender o in un programma esterno per andare effettivamente a disegnare e quindi non limitarci a dare i colori solo agli oggetti che già ci sono già ma proprio a dipingerci sopra. Vi invito quindi ad andare a guardare la descrizione di questo corso fondamenti di Blender per illustratori per tutto il mese di giugno e quindi anche a partire da adesso diciamo per un mese c'è uno sconto del 25 per cento su questo corso e su tutti gli altri che riguardano Blender. Quindi utilizzando il codice che vedete sullo schermo che vi metto in sovraimpressione per il mese di giugno e comunque appunto anche a partire da adesso si può avere uno sconto su tutti questi corsi questo qui nuovo appunto del quale vi ho parlato fondamenti di Blender per illustratori ma anche il corso completo di Grease Pencil per chi lo sta seguendo sul mio canale YouTube se vuole averlo tutto raccolto e tra l'altro questo comprende anche quello precedente quindi tutti i video sul mio canale del corso di Grease Pencil compresi gli ultimi che ancora non avete visto sul canale sono acquistabili e appunto anche questi con lo sconto il corso base di rigging per chi è già un utente avanzato di Blender poi sempre tra quelli appunto con lo sconto per un mese questo qui trasformare foto e disegni in scene 3d che insegna a partire da una fotografia su come ottenere un semplice modello 3d ma che ha un aspetto molto realistico perché parte da fotografie poi questo che è uno dei tutorial più grossi che ho realizzato qui è ambientazione medievale in Blender ma in realtà vi insegna molto su quello che è la costruzione di sfondi di landscape in 3d con Blender con diverse diverse tecniche che potete applicare a tanti tipi non solo a questo di genere medievale ma a qualsiasi sia il tipo di environment che volete creare di nuovo sulla fantascienza è pensato apposta per chi invece vuole realizzare disegni al tratto e quindi mentre questo tutorial è più per sfondi realistici o comunque diciamo dall'aspetto fotorealistico cinematografico questo qui invece città sci-fi in stile fumetto manga con Blender insegna a creare dei disegni al tratto magari anche con i rettini e a crearli proprio direttamente dentro Blender anche quindi senza aver bisogno di programmi esterni quindi questo per esempio è una bella aggiunta se seguite tutto il corso base siete dei disegnatori e volete conoscere delle tecniche per riuscire ad ottenere delle illustrazioni al tratto già direttamente dentro Blender questo è un buon corso e l'altro che è ancora in offerta è questo disegnare astronavi con Blender e Clip Studio Paint che è un po' più piccolino però diciamo che si focalizza su degli strumenti che mette a disposizione Blender per aiutare la fase di design e quindi diciamo di ricerca di forme nuove attraverso delle tecniche anche casuali che stimolano la fantasia. Per tutti quelli che avevano già acquistato il mio precedente corso base questo qui nuovo fondamenti di Blender per illustratori è gratuito quindi avrete già ricevuto nel caso via mail il link perché ho pensato che tutti quelli che mi avevano aiutato comprando il primo corso base mi sembrava un bel regalo dargli questo nuovo corso pur essendo appunto molto molto più ampio è un mio modo per ringraziare quelli che mi hanno sostenuto fin dall'inizio comprando il primo dei corsi quindi riceverete automaticamente l'email per poterlo scaricare gratuitamente. Per tutti gli altri appunto il codice giugno 23 tutti questi codici e sconti ve li indico anche in descrizione quindi andate nella descrizione del video sottostante e trovate il link a tutte le varie risorse grazie e alla prossima Grazie a tutti!